Motogp 2011, Ezpeleita, nessuna sostituzione per il TDI Motegi, dopo l'immane catastrofe che ha colpito il Giappone, la Motogp ha lanciato un segnale importante al paese del sollevante che nonostante le avversità si sta risollevando con una dignità unica al mondo, il proprietario del circuito della Motogp, Carmelo Ezpeleita, ha dichiarato che la tappa giapponese di Motegi nel caso non potesse essere recuperata in calendario, non sarà sostituita da nessun altro circuito, un ulteriore segnale di vicinanza al popolo nipponico che quindi sarà confermato non solo per il 2011, ma anche per i prossimi anni notizia ovviamente che non può che far piacere ai dirigenti di Motegi oltre che all'intera economia giapponese, visti gli introiti che la tappa della Motogp porta ogni anno al paese. Il Gp del Giappone si sarebbe dovuto correre il prossimo weekend, ma a causa del terremoto e dello tsunami è stato spostato al prossimo ottobre, quando la Motogp avrà a disposizione un mese di pausa interrotto solo dal recupero della tappa giapponese, salvo il via libera da parte di tutto l'entourage per la sicurezza dei piloti.